ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo con questa bellissima miss vi propongo un video all per quanto riguarda i saldi ho fatto tantissimi acquisti e mi scuso anche con voi perché ci sono ancora delle cose del black friday che non vi ho fatto vedere ma che metterò in questi video per quanto riguarda i saldi perché diciamo è la stessa identica cosa però ve lo specifico quando sarà del black friday allora vi devo fare un video acquisti perché ho acquistato un po di abbigliamento e vi volevo far vedere per primo questo che è un delle cose da stradivarius in caso lo metterò qua vediamo se cade tutto e niente che dirvi questa è la prima tranche per quanto riguarda i video acquisti per quanto riguarda l'abbigliamento perché ho intenzione di acquistare altre cose perché col fatto che sono dimagrita le cose mi stanno più strette più larghe quindi ho bisogno di comprare alcune cose non vi preoccupate per le cose che io di norma a casa perché io li regalo non li vendo non faccio niente io li regalo ad alcune persone e sono molto contenta di fare tutto ciò non c'è bisogno di pubblicità di cose niente allora da stradivarius ho preso delle felpe fantastiche che mi piacciono tantissimo la prima che vi faccio vedere considerate che io utilizzo sempre jeans quindi mi piacciono questi colori la prima che vi faccio vedere è questa questa ovviamente con da fin dac io adoro la disney proprio in assoluto mi piace tantissimo questo tipo di felpa non è pesante ma io preferisco metterle tipo con una camicia di sotto oppure con una magliettina tra virgolette quella della salute a manica lunga e mettere questa a me piace tantissimo l'outfit così anche per andare da mia mamma ma lo adoro e questo è con il papero nella parte dietro non ha assolutamente niente io ho preso la misura più grande che dovrebbe essere la l si fanno tre misure sml io ho preso la l e invece di 19 euro e 99 l'ho presa 15 euro e 99 che è questo ed è molto molto bella mi piace e questa è la prima vabbè le maniche sono normali così il colore mi piace perché lo abbino con i jeans ed è stupenda la seconda che vi faccio vedere è in onore tra virgolette sto scherzando ovviamente di mio figlio perché mio figlio è nato ad agosto quest'anno farà 18 anni Andrea il mio piccolo farà 18 anni anche lui siamo apposta e quindi siccome lui è un leoncino io ho voluto prendere questa felpa che è la stessa che ho regalato alla mia migliore amica per Natale gli ho regalato proprio la stessa felpa perché essendo la madrina di mio figlio volevo regalargli la magliettina con il leoncino perché tra virgolette è un regalo fatto anche da lui e quindi abbiamo preso questa felpa e io la volevo assolutamente quindi me la sono presa ed è leon king quindi il re leone vabbè è un po' sporca perché lasciamo perdere comunque è sempre così uguale all'altra nella parte dietro non ha niente e ha lo stesso prezzo questo gli ho staccato l'etichetta vabbè è lo stesso prezzo dell'altra vi volevo dire una cosa io non sono riuscita a comprare niente da Zara anche qui da Stradivarius le cose erano buttate a terra cioè le persone ci salivano su sui vestiti sulle felpe sui maglioncini e nessuno diceva niente cioè una cosa incredibile da Zara c'era tutto tutto a terra cioè se tu volevi una camicia non te la potevi nemmeno provare perché non solo non era messa nel manichino quindi nelle grucce e tutto ma era calpestata dalle persone cioè ma stiamo scherzando ma state veramente scherzando siete normali cioè ma vi prendete le cose da terra cioè li buttate a terra poi io vedevo persone anche grandi cioè posso capire delle ragazzine che sono un po' ignoranti anche di cervello dice vabbè sono piccole e si possono anche capire anche se io non capisco ma le persone grandi cioè persone più grandi di me io ho 40 anni persone molto più grandi di me gli cadeva il maglioncino a terra allora lasciano a terra cioè ditemi voi se è una cosa normale ma comunque andiamo avanti allora poi ho preso questa che è la felpa con il re leone il re leone giusto il re leone è una leoncina e sinceramente qui c'è scritto tipo amore a prima vista ma è stato amore a prima vista quando è nato mio figlio quindi per me è adatta a me quindi sono io il mio figlio ovviamente sto scherzando mi piaceva tantissimo perché proprio io sono molto attaccata ai miei figli e quindi mi piaceva tantissimo è la stessa identica cosa 19,99 l'ho pagata 15,99 l'ultima felpa che vi faccio vedere credo che sia l'ultima sì l'ultima felpa che vi faccio vedere spero di fare un try on all sinceramente poi vi farò sapere nel senso se vedete i vestiti indossati se vedete le felpe indossate significa che l'ho fatta se non le vedete non le ho fatte ok l'ultima che vi faccio vedere che mi è piaciuta tantissimo è questa con i due cagnolini perché chi si ricorda il cartone animato sa che è tipo una storia d'amore e a me piace tantissimo il fatto è anche che è bianco e poi con questi disegni molto molto particolari mi piace proprio anche come sono fatti e devo dire che è bellissima mi piace tantissimo veramente molto 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 bellissima questa felpa la adoro poi mentre compravo la felpa io avevo visto una giacchetta però questa giacchetta io l'avevo vista nel color carta da zucchero canna da zucchero o carta da zucchero canna da zucchero ditemi una cosa si dice canna da zucchero o carta da zucchero perché io gli avevo detto mi ricordo quando fu della hot bag gli ho detto voglio quella canna da zucchero si è messa a ridere non lo so come si dice? come lo dite voi? ditemi come lo dite nel senso quando chiedete questo colore carta da zucchero o canna da zucchero ditemi mi viene da ridere perché mi viene qualcosa in mente ma comunque e quindi non c'era e questa è l'unica cosa che non ho preso scontata perché qui lo sconto non c'era e l'ho presa ed è fatta così però ha le maniche a sbuffo proprio come piace a me ed è abbastanza lunga nelle maniche e il polsino è quello grande e lungo che mi piace tantissimo io adoro questi tipo di giacchettine non arriva proprio lunga lunga ma è precisa proprio precisa arriva sopra il jeans che ogni tanto mi piace mi piace indossare tipo questo tipo di giacchettina ed è veramente molto molto bella poi ha questi bottoncini qua tipo madre parlati e devo dire che è molto molto carina poi le maniche a sbuffo che io era il mio desiderio era proprio quello l'ultima cosa che vi faccio vedere per quanto riguarda Stradivarius è questo maglioncino io non ho maglioncini di questo colore lo stavo per prendere col panna ma la mia amica mi fa ne hai tantissimi di color panna prendi un colore che non hai volevo prendere il verde sinceramente e se ci vado il verde lo prenderò perché mi piaceva questa sono tipo oversize infatti ho preso una M e di 29,99 l'ho pagata 15,99 questo è il cartellino e il maglioncino in questione è questo vedete che è abbastanza grande ha il colletto così non altissimo a me piace questo tipo di colletto ha questo filo tipo tipo iridescente proprio come la mia tendina dietro e mi piace il fatto che sia con le maniche così a sbuffo ed è molto molto bello arriva anche questo con sopra i jeans più della cintura e mi piace molto mi piace molto anche il tessuto com'è l'avevo visto anche col verde mi sa che andrò a prenderlo proprio con il verde perché mi piace un bel po' e che c'era poi ah c'erano altre cose ma che minuto siamo 11 allora poi per finire volevo farvi vedere le ultime cose aspettate volevo farvi vedere le ultime cose che ho preso le ho acquistate dal cinese quindi non è che proprio sono delle cose scontate però ve le volevo far vedere il primo è questo il cerchietto con i pompon l'ho preso con il colore rosa antico perché a me piace tantissimo e quindi l'ho voluto prendere poi ho preso questo che già l'avete visto in altri video che è un altro cerchietto qui ci sono i miei capelli attaccati ma vabbè questo è un altro cerchietto mi piace tanto perché ha le orecchiette così è molto più rigido questi sono un po' molli e mi piaceva molto anche questo e per finire vi faccio vedere questo sempre preso dal cinese che è una fascia per capelli e io la utilizzo quando mi faccio o le maschere oppure mi devo struccare quindi metto questa alzo la frangetta e inizio a struccarmi quindi non ho diciamo quella cosa che mi cadono i capelli davanti è tutto la potrei mettere anche mentre mi trucco però mi viene male poi rimane il segno perché è elasticizzata niente ragazze questo è tutto il video per quanto riguarda gli acquisti fatti sull'abbigliamento io ovviamente vi dico sempre di lasciare un like e di scrivere un commento ovviamente potete scrivere se una cosa vi è piaciuta non vi è piaciuta cosa avreste comprato cosa non avete comprato se vi piaceva il maglioncino e l'avete preso in altri colori o le felpe o tutto scrivete ovviamente un commentino qua sotto scrivete qualsiasi cosa basta essere educati vi dico solo questo io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao